si è partito tutto diciamo il nome abbastanza per scherzo abbiamo visto quattro fratelli per l'appunto cognome sarti e avevamo intenzione di creare appunto un impianto sportivo che prevedesse la costruzione di più campi da padel e quindi il nome è venuto spontaneo diciamo le nostre intenzioni erano soprattutto quelle di fare qualcosa per le nostre passioni perché siamo tutti sportivi e diciamo qualcosa che potesse valorizzare anche la città in cui abitiamo quindi Castelferentino e quindi abbiamo deciso di raccogliere tutti gli sport diciamo che pratichiamo e che sono di moda in questo momento e che ci permettono di far divertire anche le persone e è venuto fuori questo centro sportivo e credo che questo sia una cosa straordinaria per Castelferentino un investimento da parte di una famiglia e ovviamente c'è tanti sportivi nelle sue fila e quindi è riuscita a fare con la sua competenza la sua bravura e la sua voglia questo investimento importante che fornisce la nostra cittadina di un complesso sportivo straordinario con tre campi da tennis bellissimi un campo da calcio a otto che è anche un campo da calcetto e quattro campi da padel e chissà magari si aggiungeranno anche altri servizi ho visto una palestra tanti spogliatoi insomma un complesso veramente di grande qualità che credo farà felici tanti giovani di Castelferentino e diventerà magari anche un punto di riferimento per il loro tempo libero io personalmente non posso fare i complimenti alla famiglia Sarti ringraziarli per questo bel lavoro ed essere molto contento per averlo qua nel nostro home in più abbiamo inserito anche abbiamo costruito anche un bar che diciamo fornirà anche i primi piatti merende colazione e cene e all'interno c'è appunto mamma Cristina che che lavora e cucina per tutti mc4 sono mario babbo Cristina che è mamma e quattro siamo noi quattro fratelli Gianmarco, Mattia, Massimiliano e Niccolò